Allora, per la medicina, per l'angolo della medicina, diamo il benvenuto al professor Pierfrancesco Parra, docente universitario e medico delle squadre nazionali della Federazione Italiana Tennis. Buongiorno, professore. Lei è anche coordinatore del tavolo tecnico La Salute nello Sport, istituito al Ministero della Salute. E parliamo di questo, tra l'altro, in epoca di internazionale di tennis, perché parliamo degli incidenti, degli infortuni, dell'usura che possono colpire anche i campioni dello sport. che hanno un fisico perfetto, naturalmente, ma anche loro hanno i loro acciacchi. È così? Certo. Durante l'attività sportiva, ovviamente, di qualsiasi livello, ma soprattutto quello di altissimo livello, ci sono due tipi di traumatologie, che possono essere quelle da traumi acuti, che sono non prevedibili, ma quelle da microtraumi ripetuti. E quelle, invece, fanno parte della specifica attività sportiva dell'individuo. Quindi nel tennista, in particolare, perché abbiamo parlato degli internazionali, che peraltro oggi riaprono anche al pubblico, anche se in percentuale inferiore alla norma, comunque questo è già un aspetto positivo, abbiamo dei microtraumi estremamente presenti, che spesso ci obbligano a intervenire anche durante i tornei stessi. Allora, vediamo quali sono gli inconvenienti che più spesso capitano a questi atleti. Gli inconvenienti maggiori sono i traumi muscolari, che sono chiaramente all'ordine del giorno, i traumi tendinei e ligamentosi, e poi ci sono tanti altri piccoli microtraumi, fino addirittura alle microfratture osse, che sono molto fastidiosi e invalidanti, e poi tutto un aspetto particolare che riguarda la colonna vertebrale, perché ci sono dei traumi dovuti all'usura, al servizio, al rimbalzo. È proprio un discorso a parte quello della colonna vertebrale. Molto a parte, sì, però molto frequente. Sì, parliamo ancora di colonna vertebrale. È chiaro che ci possono essere delle situazioni in cui si può andare da semplici infiammazioni dei dischi intervertebrali, perché sappiamo che sono degli apparati che servono da ammortizzatore, che sono fatti con un nucleo polposo e un anulus fibroso, che già con l'andare del tempo, in maniera degenerativa, a volte anche congenitamente, con aspetti di familiarità, vanno incontro all'usura, per cui parte del nucleo polposo tende a fuoriuscire all'esterno e dare segni di compressione radicolare oppure dei tessuti circostanti. E questo chiaramente spesso è fortemente invalidante e è diventata una delle malattie ubiquitarie maggiori. Senta, professore, che cos'è quel macchinario accanto a lei? Questa è l'ultima evoluzione della metodologia laser che io ho messo a punto a partire dal 1988, perché la mia intuizione fu di usare dei laser chirurgici, in quanto io, specialista in chirurgia generale, chirurgia d'urgenza e perfezionato in laser chirurgia, mi ero reso conto che i laser utilizzati in chirurgia erano eccessivi, ma che probabilmente potevano essere sfruttati per un'utilizzazione in terapia fisica. E così è stata l'idea di defocalizzare il laser. Cioè, cosa vuol dire? Prendere la luce puntoria del laser chirurgico, allargarla per far sì che non si vada a tagliare il tegumento o a ustionare i tessuti in superficie, ma che la luce possa penetrare all'interno, arrivando fino a 7-8 centimetri di profondità. Quindi la defocalizzazione è questa, cioè abbiamo un manipolo che ha una possibilità di defocalizzare il raggio, quando poi viene appoggiato al punto da trattare, utilizzando bene le porte anatomiche, si può arrivare a trattare delle patologie in profondità. È chiaro che all'inizio, fine anni 80-90, era utilizzato il laser CO2 anidride carbonica, che però non poteva assolutamente penetrare, in quanto la lunghezza d'onda specifica di quel laser era 10.600 nanometri, cioè al di fuori della finestra terapeutica. Quindi vuol dire che l'acqua lo ferma. E io, l'unica intuizione che ho avuto, utilizzare invece un laser con lunghezza d'onda all'interno della finestra terapeutica, prima il neodimio YAG, e poi piano piano utilizzare più laser insieme, fino ad arrivare a un multilaser con 4-5 lunghezze d'onda, che lavorano in sinergia, che sono tutte comprese nella finestra terapeutica, che tutte possono trasmettersi in acqua e possano andare in profondità. E quanto dura una seduta di laser terapia? Allora, intanto mi permetto di... Non uso mai il termine laser terapia, perché la laser terapia, come dico ai pochi congressi dove partecipo, è nata morta da piccola la laser terapia, perché assolutamente è fatta da lunghezze d'onde che non funzionano. Questa è proprio una laser di alta potenza, cioè utilizza l'alta potenza chirurgica, laddove la terapia tradizionale è inefficace e laddove invece la chirurgia è troppo aggressiva, c'è una terza via d'uscita. E questo... Che dà dei benefici. Che può dare dei benefici. Dura pochissimo perché la seduta è una micro seduta che come abbiamo stabilito con delle ricercatrici russe, fra cui mi fa piacere ricordare sempre la Chira Samoylova della Università delle Scienze di Russia, va da 8 secondi al massimo di 30 secondi. Si può ripetere e grosso modo l'iter terapeutico può andare da una giornata, ad esempio in un trauma acuto, fino a 3-4 giorni in altre situazioni. Poi si può ripetere più volte a distanza di 1-2 settimane a seconda del caso. Cioè non esiste un protocollo preciso, ma esiste un adattamento alla singola patologia. Senta, professore, solo per capire, lei ha detto molti benefici, quali benefici derivano dall'utilizzo di questo strumento? Allora, siccome si usa sempre in terapia fisica il concetto dell'antalgia, cioè togliere il dolore è il beneficio. Il paziente è contento quando... Non sente più male. Non sente più dolore. In realtà io non sono contento quando non sente più dolore. Sono contento quando non sente più dolore perché abbiamo cercato di rimuovere la causa del dolore. Quindi addirittura nelle prime microapplicazioni... Sentirà più dolore? Sentirà più dolore. Almeno nell'80% sente più dolore, in un 10% c'è quello che io chiamo l'effetto Lourdes perché stanno subito bene, ma è molto raro, e in un 10% invece non hanno modificazioni. I casi che spesso non hanno una positività di risultato sono proprio questi che non hanno reazione perché ci siamo arrivati tardi. Però l'importante per ottenere un buon risultato è fare la corretta diagnosi, la corretta terapia personalizzata, l'esecuzione perfetta senza creare danni che possono essere ustioni superficiali o danni oculari se l'operatore è distratto, e soprattutto adattarsi e insistere nei casi in cui si vede una certa resistenza che può essere vinta nel tempo. Grazie professore, grazie davvero. Grazie, grazie.